Abbiamo bisogno del decoro, certo, vorrei nei primi, qual è la prima cosa che farà da sindaco? La prima cosa che faccio da sindaco è pulire la città, duemila mezzi di ama in giro per Roma che puliscono questa città perché dello schifo che si vede dalla mattina alla sera non se ne può più, è la prima cosa da fare quella che dà un segnale di cambiamento immediato ma dopo che io ho pulito Roma, dopo che l'ho pulita anche grazie magari a quelli che mi vogliono dare una mano collaborando sulle aree verdi oggi questa piazza l'abbiamo pulita, l'hanno pulita i nostri volontari, li ringraziamo, gli facciamo un grande applauso hanno tirato fuori decine e decine di metri cubi di spazzatura da questa piazza, ve la lasceranno così sarà nella vostra disponibilità da domani, starà anche a voi, diciamo non sporcarla perché poi ci vuole anche questo diciamoci la verità, un po' di responsabilità allora io la pulisco, metto i cestini multimateriali a ogni angolo perché chi vuole buttare un pezzo di carta deve sapere dove farlo perché a Roma ogni tanto per buttare un pezzo di carta il cestino te lo devi portare a casa ma quando io l'ho pulita e ho riempito la città di cestini multimateriali se tu mi butti un pezzo di carta per terra, la multa fiocca pesante e non guardo in faccia a nessuno e se non hai i soldi per pagare vieni a pulire con le tue manine e mi aiuti a tenere questa città pulita, ci vuole anche responsabilità Roma ha bisogno di questo, di noi che decidiamo di riprendercela, di noi che decidiamo di dire basta bisogna far pagare il biglietto sull'autobus perché è vero che il nostro sistema di trasporto pubblico non funziona ma certo se neanche si paga il biglietto è più difficile che funzioni allora facciamo così, io penso che si possa fare una guerra senza quartiere a chi non paga il biglietto penso che si possa fare con cose semplici, che si possa fare con tornelli non scavalcabili nella metropolitana sia in entrata che in uscita perché hai voglia di metterlo uno scavalcabile in entrata ma poi in uscita ce l'hai scavalcabile e entrano tutti dall'uscita in entrata e in uscita sull'autobus ci rimettiamo il bigliettaio perché il bigliettaio non solo ci aiuta a combattere l'evasione tariffaria ma ci aiuta anche a garantire sicurezza sui mezzi perché un sacco di gente l'autobus non lo prende più perché ha paura gli autisti vengono aggrediti c'è bisogno anche di questo quindi noi recuperiamo le risorse dalla lotta agli sprechi dalla lotta all'evasione tariffaria fino a 200 milioni l'anno si possono recuperare con quei soldi facciamo la manutenzione dei mezzi in 5 anni passiamo da 1300 mezzi a 2000 mezzi che girano significa raddoppiare le frequenze e aumentare le tratte significa che gli autobus passano a Roma passano quando ti dicono che passano significa che hai delle certezze poi chiaramente bisogna lavorare sulle metropolitane però partiamo dalle regole la raccolta differenziata si può fare la raccolta differenziata si può fare la raccolta differenziata portandola al 75% in 5 anni si può fare anche abbassando la tassa sui rifiuti come si fa? in due modi primo, la tassa sui rifiuti non la puoi pagare sulla base della metratura della casa nella quale abiti o dell'attività commerciale nella quale operi perché la metratura non c'entra niente con la quantità di rifiuti che tu produci la tassa sui rifiuti va pagata sulla quantità di rifiuti indifferenziati che produci che significa che più differenzi e meno paghi così io arrivo a fare la raccolta differenziata fatta bene tu mi aiuti e abbiamo entrambi un guadagno poi prendiamo questa spazzatura e invece di andare a pregare altre nazioni che paghiamo per prendersi la nostra spazzatura trasformarla e rivendersela ce la trasformiamo da soli ci apriamo gli ecodistretti prendiamo la carta la trasformiamo ci rivendiamo la carta ci facciamo i soldi e trasformiamo la spazzatura in una fonte di ricchezza cioè quello che fanno le nazioni che noi oggi paghiamo per prendersi la nostra spazzatura si può fare anche questo quando abbiamo fatto questo togliamo i cassonetti quando abbiamo tolto i cassonetti non avremo più manco quelli che ci rivistano dentro e ce li rovesciano dalla mattina alla sera in mezzo alla strada questa città ha bisogno di rispetto delle regole da parte di tutti basta con i palazzi occupati a Roma ci sono 107 palazzi occupati nessuno sa chi ci sta dentro che cosa accade la polizia non entra lo Stato non entra fanno come gli pare molti sono occupati dagli immigrati clandestini dice no però voi mi avete fatto entrare l'altra volta erano in una trasmissione televisiva sono andati con una telecamera a Palazzo Curtatone Piazza Indipendenza dove ci sono da 3 anni 600 immigrati clandestini che occupano abusivamente però gli arriva l'acqua, la luce e pure la posta che magari a voi non vi arriva ma a loro sì quindi se non vi arriva la posta andate a mettere la residenza a Palazzo Curtatone che lì arriva sono entrati con la telecamera e il signore che era all'ingresso ha detto beh noi abbiamo occupato perché voi ci avete fatto entrare in Italia non ci avete dato una casa e quindi noi occupiamo fa una piega in una nazione normale se io ti ospito ti do una possibilità e la prima cosa che fai è delinqui cioè non rispetti le regole ti prendo e ti riporto a casa tua perché è giusto che se io ti ospito tu rispetti la comunità che ti ospita questo vale se sei migrato clandestino per me vale anche se sei profugo perché in generale diciamo ad accoglienza si risponde con responsabilità se io sono solitale con te tu non è che mi puoi sputare in faccia perché altrimenti c'è qualcosa che proprio non funziona 107 palazzi occupati alcune case occupate anche da questi dei centri sociali che prendono e occupano le case non si può fare si può fare una gestione seria delle case popolari a Roma si possono aumentare in 5 anni le case popolari a Roma di almeno 5.000 unità si può vendere il patrimonio delle RP cioè il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica quello non addibito a case popolari dove la gente sta dentro a 8 euro non si sa perché si prendono si vendono quelle case si fa casse si comprano case popolari siamo per la casa a riscatto che significa che se tu stai in una casa popolare da 8 anni hai il diritto di starci io faccio valere i canoni di locazione che hai versato fino ad ora come se fossero mutuo ti consento di comprarti la casa di trasferirla ai tuoi figli di avere una proprietà e io mi libero dei costi di manutenzione e recupero risorse e con quelle risorse posso comprare altre case e poi si può dire che a Roma non si costruisce più se non immaginando che una quota delle case che si costruiscono non sono del comune per essere adibiti a case popolari perché? perché noi dobbiamo uscire dalla logica del quartiere popolare nella mia Roma ideale non c'è più il quartiere di case popolari il quartiere residenziale c'è una Roma nella quale in ogni palazzo c'è un appartamento di una famiglia che ha bisogno di una casa popolare e si esce dalla logica del voi tutti qui noi tutti lì anche questo è un altro modo per mettere in piedi nuove case 5.000 case in 5 anni si possono mettere in piedi e dire basta alle occupazioni basta alle zone franche basta all'abusivismo commerciale ne abbiamo già parlato dall'inizio dell'anno a oggi a Roma hanno chiuso 4.000 attività di commercianti onesti che non ce l'hanno fatta a pagare le tasse con le regole dello Stato italiano mentre quelli che aprono le imprese e le chiudono prima dei tre anni per truffare lo Stato italiano continuano a proliferare perché lo Stato italiano di loro se ne frega e viene a cercare voi che avete un nome in cognome e una residenza chiari e anche questo non si può fare più lotta serrata totale all'abusivismo commerciale le moschee abusive pure questo bisogna dire a Roma ci sono 14 moschee regolari una per ogni municipio non c'è alcuna ragione di aprirsi una moschea nel garage di casa propria non c'è alcuna ragione eppure ci sono più di 100 moschee abusive non si può fare perché noi vogliamo garantire la libertà di culto ma anche la sicurezza dei cittadini romani e vogliamo controllare tutti i luoghi anche i luoghi nei quali si prega possibilmente vorremmo che ci si pregasse nella nostra lingua così possiamo capire pure che si dice e poi i campi rom e il problema dei rom anche qui guardate voglio uscire dalla logica radiamo tutto al suolo il problema non è questo bisogna invertire bisogna invertire il principio bisogna invertire il principio qui l'integrazione non è un problema che parte da noi perché il comune di Roma negli ultimi anni ha speso milioni di euro per l'integrazione per la stolarizzazione per i campi rom per pagare le utenze è cambiato qualcosa non è cambiato niente allora la logica adesso cambia la logica è vuoi dialogare con il comune di Roma perfetto comincia a mandare i tuoi figli a scuola perché la schiavitù qui l'abbiamo abolita e di ragazzini che crescono analfabeti perché così possono essere alla mercetti chi li manda a chiedere le lemosina o a rubare non ne vogliamo a Roma la gente deve essere libera e questa è solidarietà e non ho sentito dire una parola dai miei avversari da quelli che dicono ma diamogli la casa diamogli il lavoro diamogli tutto poi se lo mandano i loro figli a scuola ma chi se ne frega non funziona così se io non mando mio figlio a scuola e lo mando a chiedere le lemosina o lo mando a rubare a me mi tolgono la patria potestà ed è giusto che sia così e deve valere anche per i Rom poi sui nomadi vanno trattati come tutti gli altri come tutti gli altri cittadini a meno che non siano effettivamente nomadi perché se sono effettivamente nomadi vogliamo rispettare la loro specificità e quindi se sei nomade devi siete preparatissimi ma io che ci vengo a fare che ci vengo a fare se sei nomade non sei stanziale quindi se sei nomade devi nomadare loro hanno gridato scherzando che è una battuta che io ho fatto in qualche occasione che però rende che poi voglio dire se hanno accolto petaloso andrà bene pure nomadare che secondo me rende bene l'idea comunque se sei nomade non puoi essere stanziale significa che se sei nomade rispetto alla tua specificità allestisco dove ci sono alcuni degli attuali campi Rom campi Rom vanno chiusi e si aprono delle piazzole di sosta temporane dove tu arrivi ti allacci alle utenze paghi le utenze e dopo sei mesi ti muovi perché sei nomade se invece sei un cittadino stanziale ti devi occupare come tutti gli altri cittadini stanziali il meccanismo del ghetto del campo Roma è un meccanismo che è fallito che esiste solamente in Italia che noi non siamo in grado di tollerare più ecco queste sono diciamo alcuni esempi di Roma ricondotta a una città degna del suo nome Roma capitale d'Italia Roma capitale della civiltà europea Roma capitale della cristianità Roma capitale del Mediterraneo Roma capitale del sud Roma è tante cose spesso tante cose dimenticate quello che noi abbiamo bisogno di recuperare in questa città e vado alla chiusura è l'orgoglio della sua identità noi per primi a un certo punto questa città l'abbiamo un po' abbandonata abbiamo visto tante cose che non funzionavano da pensare vabbè qui è tutto perduto quelli che dicono vattene quelli che dicono vai a lavorare all'estero quelli che dicono tanto questa città quell'Italia non ce la faranno non è così dipende da noi ce la dobbiamo dire la verità io la mia parte la faccio più di così non potevo fare perché mi guardo allo specchio l'amo questa città è la mia città non ne posso più di vedere gli articoli del New York Times che mi vengono a spiegare che Roma fa schifo che Roma è la capitale dei topi che Roma è la capitale del degrado che Roma è piena di illegalità che diciamoci la verità lo fanno anche per sana concorrenza noi prestiamo il fianco ma gli americani titolano così ogni giorno perché sono consapevoli del fatto che con il patrimonio artistico culturale che abbiamo noi se questa città funzionasse anche diciamo gli altri sul turismo avrebbero una leggerissima flessione quindi lo fanno anche perché gli interessa farlo ma noi prestiamo il fianco ecco io non vorrei più prestare il fianco vorrei una città che fosse davvero all'altezza del suo compito e penso ripeto che questo si possa e si debba fare insieme c'è un grande lavoro da fare sui temi del turismo c'è un grande lavoro da fare sui temi della manutenzione stradale noi su tutte queste questioni ci siamo presi degli obiettivi ci siamo dati degli obiettivi di cinque anni molto chiari li trovate su tutti i nostri siti 500 milioni per mettere in sicurezza le strade di alta percorrenza classificate come pericolose e poi abbiamo parlato del tema dei servizi sociali degli asili nido di una città a misura di mamma perché non è vero che gli italiani e i romani non li vogliono più fare i figli è invece vero che i figli sono diventati un bene di lusso è vero che tante donne sono ancora costrette a rinunciare a mettere al mondo un bambino perché se mi hanno fatto il problema a me ma dove vai con quella panza figuriamoci che possono fare a una ragazza precaria che lavora in un call center quando decide di mettere al mondo un bambino allora il tema non è solo quello di una sfida culturale che comunque mi affascina anche quella per carità mi avevano detto ma dove vai ma sei ridicola statene a casa come avranno detto anche a qualcuna di voi e invece gli abbiamo dato una lezioncina perché la campagna elettorale l'abbiamo fatta l'abbiamo fatta bene rischiamo pure di vincerla e poi ci facciamo due risate però il tema non è solo quello della battaglia culturale che comunque è un tema che ci interessa il tema è anche quello dei servizi perché è certo che un problema ce l'hai se poi tu per andare a lavorare paghi l'asilo nito guadagnando 30 mila euro l'anno 400 euro al mese per cui l'obiettivo è tagliare le rette almeno del 20% aumentare la capienza degli asili nito aumentare la possibilità per le mamme per le famiglie di avere una soluzione per questi bambini noi abbiamo parlato addirittura di asili nito condominali della possibilità per le neomamme di occuparsi anche e scelgono di stare a casa con i loro figli di occuparsi anche di altri bambini con il comune che rimborsa loro il lavoro che fanno perché è anche un modo per affrontare il problema di tante mamme che è difficilissimo ricollocare sul mercato del lavoro c'è anche questo i servizi sociali del comune di Roma è certo bisogna farla finita diciamo con tutto quello che abbiamo visto anche su un certo utilizzo della disperazione della gente che è stato fatto da qualcuno che ci ha marciato e se ne è approfittato così le risorse si recuperano per fare cose serie ma vi rendete conto che nei canili comunali un cane nel canile è arrivato a costare quasi 13 euro al giorno 13 euro al giorno sono 400 euro al mese è praticamente una pensione sociale per tenere un cane in gabbia te ne do 100 al mese a te se te lo prendi a casa gli dai una famiglia a quel cane che siete tutti più felici ci risparmio tre quarti di quello che spendo si può lavorare voglio dire onestamente si può lavorare per dare soluzioni migliori per tutti ripeto anche per i nostri amici a quattro zampe che io sarà che ci tengo sono molto amante degli animali ma insomma è un altro tema che mi interessa si può fare con gli asilini do condominiali il tema importantissimo dei bambini si possono riqualificare le aree verdi con le associazioni e i comitati di quartiere si possono rimettere in piedi le strade con i privati che te le pubblicizzano perché a voi dà fastidio se io la strada di fronte per farla manutenere chiedo a un marchio privato di metterci la pubblicità e di pagarmi il rifacimento della strada presumo di no io ci trovo le risorse voi la strada ce l'avete senza buco e lui si fa la pubblicità e siamo tutti contenti ci vuole anche un po' di estro un po' di creatività